Allora ragazzi parliamo un paio di cose Per prima cosa è successo qualcosa di tragico ieri Sono svenuto due volte Allora, dovevo farmi la doccia Mi sentivo male durante la doccia Svengo per la prima volta dentro la doccia Poi mi rialzo Poi dopo, poi poco dopo essere uscito dalla doccia Proprio tipo ero appena uscito dalla porta Svengo di nuovo I miei genitori vogliono sapere se sto male E mi portano all'ospedale E all'ospedale mi iniettono della glicemia E ora sto bene Seconda cosa è che non caricherò video Allora, in pratica ragazzi sto per fare una gita Che durerà da martedì a giovedì Durerà fino a giovedì la gita E quindi non ci possiamo vedere Ragazzi di gite ne ho fatto un sacco Cioè, ho fatto quella al parco acquatico Ho fatto quella a quel palazzo Che non mi ricordo come si chiama Oh vabbè, non ho fatto gita Però, vabbè, inizio questo quiz Allora, beginner Questo giocatore si è fatto Juventude Juventus Romulo, ok, mai sentito Questo giocatore si è fatto Bologna Ellas, Verona in prestito Fiorentina No Ok, mai sentito Gamberini Sloveno Che non lo so Ok Mio Dio, quanto è un bambino Ah no, questo non lo so Ok, infatti Io avevo messo beginner Non impossibile Dove è Gagliart Grazie a tutti Cioè, ero andato a caso Cioè, ero andato a caso Vabbè, questo è molto facile Il giocatore che si è fatto Feyenoord, Lazio Vabbè, questo è Devrai No, questo non è così tanto facile Come si chiama? No, non è Torreira Eh, io credo fosse il portiere Muslera Allerà la Bulgaria No, questo non lo so Ma io leggo solo Cacchio Se avessi letto I team che ha Qua giocato L'avrei indovinato Scusate ragazzi Ma non uccidete Questo lo so Ok, mai sentito Doni Doni, doni Doni, doni Doni Ehm Ma questo è molto facile Sao Paolo Siviglia Real Madrid Arsenal in prestito Robabbè, questo qua E la bestia Julio Battista Vattene via Non ti voglio più vedere Ehm Questo non so Ok, mai sentito Infatti Can In No Frey è stato all'Inter Vabbè, in realtà Non l'ho mai sentito Vabbè, Kriciuma Empoli Inter No, non lo so Eder Cacchio Eder Eh, mio Dio Eder Allora, questo è molto facile Alcmo Calvlon Eh, Basile A Celsi Vabbè, questo qua È È Momo Perchè non mi si è Eh, ok Sì, la mia connessione È sicuramente sicura La facciamo quiz Su Facciamo un quiz Su lì Il Terra Visto che voi credete Anzi Premier League quiz Dai, facciamo quella Che secondo voi È la miglior lega Al mondo Dai Facciamola Anche se è la miglior lega Al mondo Secondo me È la serie A Eh Semi pro Oh, molto lindo Anzi, facciamo Ragazzi Io non In realtà Non so tanto Della Premier Facciamo Eh Povi il caricamento Che mi dà tempo Che mi dà Minuti aggiuntivi Del video Caricati Ok Ma sto coso ci mette Ma sto coso ci mette Tre anni Ad ogni bottone Muoviti Ok Ah, questo è molto facile Il giocatore Che si è fatto Eh Vabbè Questo Si è Alnizza Vabbè Questo qua È Schmeichel È Casper Schmeichel Il figlio Di Peter Schmeichel Allora Vabbè Molto facile Questo giocatore Si è fatto Due squadre Liverpool E E Le Galaxy Vabbè Questo qua È Steven Gerrard Stevie G Il miglior giocatore Nella storia Del Questo qua Si è fatto Ah In realtà Anche questo È molto facile Manchester United Poi è ritornato Al Manchester United Cioè Ritornato Dal Dal Diciamo La Il ritiro Nel 2012 Questo qua È Scholes Ok Questo Molto Ah Shit Questo Molto facile Indipendiente Atletico Manchester City E poi si è fatto Barcellona Questo qua È il Cunaguero È proprio Il Cunaguero Ok Gallese Che muo Ma Io Gallese Ok Sentito Qualche Parte In realtà Mai Sentito Ok Mai Sentito Stanno iniziando Ad apparire Giocatori Che io Non conosco Diciamo Questo qua Moe È al Sautempo Ho Sentito Romeo Eh Vabbò Questo è molto Facile Moe All'area Al Si è fatto 10 anni Al sito Vabbò Questo è David Silva Mio Dio David Silva Pelato Non si può Vedere Questo qua Si è fatto Un sacco Di anni Al Tottenham Emo Al Manchester Ericsson Veramente Si è fatto Così Tanti anni Vero che Ericsson Si era anche Fatto L'Inter No Ok Mai sentito Questo giocatore Si è fatto Il Chelsea Per 9 E Ivanovic Si Ivanovic Mi ricordo Che si era fatto Il Chelsea Per tipo Tanto tempo E questo Non gioca All'Underlecht Dove ho controllato Dio 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 Questo è molto facile Questo qua E Ioris Portiere francese Del Tottenham C'è solo Ugo Ioris Questo è Come si chiama Walcott O almeno Sembra Sì Infatti Era Fio Walcott Tanto ragazzi Nel video Dell'iceberg Mi scordai Di nominare Che Walcott Aveva fatto Una trepetta I supplementari Di Arsenal Reading Vabbò Io non l'avevo Controllato bene Questo non lo so Stephen Queen Ok Facciamo L'ultima Che succede È caduto qualcosa Ok signore Facciamo un po' Di la liga Let's go Allora Questo giocatore Si è fatto Liverpool Liverpool No Ok Mai sentito Questo giocatore Moe Alvelez E si è fatto Atletico Madrid No Questo non lo so E Vabbò Ma che palle L'Inter Ragazzi Sono le 22 Ormai sono cotto In realtà Questo è molto facile Sevilla Manchester City Diamo al ritornato Al Sevilla Questo qua è Sus Navas Gioca dal 2003 Real Madrid No Alberto Marco Gioca ancora Ah questo è molto facile Atletico Madrid Liverpool Chelsea Milan Di nuovo Questo qua è Torres Il nigno Torres Poi Fernando Torres Questo non lo so Ho per sbaglio Cliccato qua Si è cliccato la Barra qua Questo qua è stato 15 anni Alla Real Sociedad Non lo so Ok Infatti Mai sentito E vabbè Ha allenato E vabbè Sono tutti questi club Ehm No Cacca È vero che Bizzarri Si era fatto Il Real Madrid Si era fatto Delle papere Incredibili In una partita Ma questo non lo so Anso Teghi Ok Molto difficile Questo Il Real Madrid Non Cioè Del Non ne conosco Nessuno Cioè Mi sa Ah in realtà Questo Mi sa che lo riesco Di indovinare Questo qua Si è fatto Manchester United Ah mi ha aiutato Un sacco Il Il Villareal Che è il club Dove ha avuto Il suo prime Questo giocatore Ma gioca La spalla Questo qua Giuseppe Rossi Ecco qua Che potevi diventare Giuseppe Rossi Gli infortuni però Ti hanno preso Questo Ma allena Turan adesso Allena L'Eispor Non credo fosse Ancora In attività Da Turan Vabbò Signori C'è C'ho una gita Che mi attende E nel frattempo Ci vediamo Ciao Ciao